E ancora una volta l'incrocio in via Ghezzi con lo scorrimento veloce al centro della rubrica delle vostre segnalazioni. È stato proprio un automobilista a fermarsi all'incrocio e a documentare come la segnaletica verticale, completamente vetusta e arrugginita, vada sostituita celermente. Non solo le direzioni indicate sono praticamente leggibili, ma addirittura quella per Palermo è girata verso Ribera. Insomma, un incrocio che tra pari della pubblica illuminazione spenti e impalcatura della segnaletica arrugginita avrebbe necessità di un intervento risolutivo da parte dell'ANAS. In pieno centro storico, in via Giuseppe Licata, ci segnalano invece una questione non di poco conto. Sabato scorso un'ambulanza è stata costretta ad accostarsi sul lato sinistro della strada per prestare soccorso. Data la presenza a destra dei dissuasori di posteggio in gomma, i paletti per intenderci, la carreggiata si è ristretta a tal punto da non permettere ai mezzi di circolare. Per tutto il tempo delle operazioni di soccorso, il traffico nella centralissima via Licata è rimasto bloccato. Un episodio che dunque solleva un problema che potrebbe ripresentarsi in futuro e per cui occorre trovare al più presto una soluzione. Passando alle più classiche delle segnalazioni, vi mostriamo le immagini di un lavoro di girgenti acqua lasciato a metà. Siamo in via delle dalie, proprio nei pressi della sede della nostra emittente. Mesi fa, all'inizio dell'estate, operatori della società sono intervenuti per sistemare, almeno questo era l'intento, una perdita idrica. Ad oggi però lo scavo non è stato coperto. Il lavoro lasciato a metà è stato semplicemente transennato, diventando un ostacolo per chi la percorre in macchina o su altri mezzi. Oltretutto, quando piove, tutta la terra crea un pantano lungo la strada. Ancora una volta dunque, torniamo a chiedere a girgenti acqua di concludere l'operazione, asfaltando l'area interessata dai lavori. Altro must delle vostre segnalazioni sono le perdite idriche che trasformano le strade in fiumi in piena. È il caso della via Dante Lighieri, che per questo aspetto non ha mai trovato pace. Innumerevoli le perdite idriche che in più punti hanno interessato la strada. Questa volta si tratta inoltre di un guasto non di facile risoluzione, poiché sembra che l'acqua erogata si disperda da dietro un muretto che si trova nella parte bassa del retro della sede centrale dell'istituto comprensivo Dante Lighieri. Intanto litri e litri d'acqua non raggiungono le abitazioni vicine e si disperdono sull'asfalto da circa due mesi. Anche in questo caso si attende ancora che Girgenti Acqua intervenga.